buongiorno occhio ai giornali il commento alla stampa del giorno oggi è mercoledì 19 maggio ben trovati sul canale 17 di fano tv tra poco vedremo i giornali prima il santo e il tempo cominciando dal santo di oggi oggi è santo urbano primo il sole è sorto alle 5.39 tramonterà le 20.35 e adesso il tempo precipitazioni nella prima parte della giornata rovesci sparsi e isolati temporali in particolare al nord della regione fenomeni assenti nel pomeriggio per quanto riguarda la giornata di domani avremo cielo inizialmente sereno poco nuvoloso con durante le ore centrali rovescio temporali sparsi nelle zone alto collinari e montane mentre venerdì 21 maggio ancora cielo sereno poco nuvoloso ma senza precipitazioni ancora un po di vento che ci sta tenendo compagnia ormai da un sacco di tempo dall'inizio del mese praticamente sta tirando vento e soffiando vento in continuazione ma comunque poco male pulisce l'aria e magari caccia via pure questo covid allora a casa alle 23 questo è il titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro di oggi lunedì in palestra oggi slitta di un'ora il coprifuoco mentre nella regione per la prima volta non si registrano decessi Santa Colomba tornano i familiari in visita regole stringenti distanza vaccino e mascherina FFP2 queste sono le regole poi Rocca Costanza e Palazzo Ricci riscossa della bellezza e della storia di spalle invece qua le lacrime delle Marche illuminati da Battiato dolore per la morte di Franco Battiato anche nelle Marche un fiume di ricordi legati alla figura dell'artista scomparso scomparso ieri all'età di 76 anni sotto giro di cocaina a Fano tre condanne pesanti il GUP commina fino a cinque anni di carcere coinvolto anche un tecnico del teatro della fortuna il resto del Carlino torniamo a respirare questa è la fotonotizia riaperture e sollievo per ristoratori, baristi, negozi anche all'interno dei centri commerciali questa è la notizia dopo il coprifuoco c'è anche quella che insomma si può tornare cioè i locali dentro gli Iper potranno tenere perdite nel fine settimana grazie Battiato con lui Fano salì ai vertici della musica vaccinazioni oggi al via le prenotazioni per la fascia d'età 40-49 anni e poi lavori in spiaggia per garantire una fila in più di ombrelloni siamo sempre a Pesaro poi VIS, blu e mamona, talento sotto i riflettori e poi cittadella della musica ecco il progetto da sogno vediamo allora che cosa scrivono i giornali oggi in particolare il Corriere Adriatico che fa la consueta analisi giornaliera di come sta andando la pandemia nella nostra regione chiusi i primi reparti Covid i pazienti positivi sono 280 nessun decesso dopo 7 mesi a Torrette smantellate le aree Covid 3 e 4 all'IRCA liberato il secondo piano Pesaro, San Salvatore una sola rianimazione su 4 attivate in pandemia quindi le cose come vedete stanno anche se lentamente ma stanno comunque migliorando vaccini, tocca ai quarantenni oggi le prenotazioni intanto ieri molte persone con l'appuntamento hanno trovato le strutture chiuse quindi ci sono state proteste per questo blackout informativo per molte persone che ieri pomeriggio avrebbero dovuto fare il richiamo oppure la prima dose nei tre punti vaccinali di Pesaro Urbino e Fano si sono regolarmente presentate ma hanno trovato tutto chiuso e nemmeno un cartello di spiegazioni e qui naturalmente poi la gente si è arrabbiata molti vaccinanti per qualche ragione non hanno ricevuto l'avviso SMS del blackout sono stati comunque ricollocati mentre per quanto riguarda la fascia la fascia 40-49 anni dal 21 di maggio scusate da oggi la fascia d'età 40-49 anni potrà prenotare da mezzogiorno per vaccinarsi quindi tutti quelli che hanno dai 40 ai 49 anni si possono prenotare sarà possibile prenotarsi come al solito attraverso il portale di poste italiane all'indirizzo come vedete prenotazioni, vaccino eccetera eccetera oppure chiamando il numero verde 800 00 99 66 come al solito per chi decide di prenotarsi online oltre ai dati personali dell'utente occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale e anche di un numero di cellulare il quale verrà notificata poi la conferma poi c'è la possibilità di farlo anche sul post ma insomma ce ne sono tanti metodi per potersi prenotare mentre sempre sulla pagina 4 del Carlino di oggi di Pesaro scuole fatti 18 mila tamponi e ora Ricci il sindaco punta ai test salivari finiti i tamponi rapidi nelle scuole si inizia a pensare appunto a questi test ieri si è concluso l'ultimo screening promosso dal Comune di Pesaro toccando quota 18 mila tamponati nelle medie e superiori da inizio gennaio fino a maggio mentre dopo sei mesi di chiusura e la fine dell'incubo per i commercianti sabato shopping è il giorno della vittoria a Rossini Center per esempio soddisfatti i titolari delle attività all'interno della galleria che riapriranno nel fine settimana qualcosa si è mosso dice Franco Scanzano qualcosa si è mosso ma finora abbiamo ogni sabato e domenica ci siamo persi 1500 euro di incassi mentre Camilla Trufelli dice ci sono mancati tutti gli incassi di Natale e dei saldi e quindi l'anno possiamo dire che è cominciato ed è partito male mentre sul fronte dei matrimoni la coppia che aveva scritto la mail al premier Draghi rimandiamo la festa al 26 giugno l'amarezza di lei i presupposti per farmi saltare il ricevimento non ci sono ma comunque mi adeguo la cronaca giro di cocaina all'ombra del teatro il teatro è quello di Fave il teatro della fortuna tutti condannati tre imputati tra loro anche un tecnico delle luci del palcoscenico ritenuto complice di un gruppo di albanesi i carabinieri li avevano identificati grazie a un confidente le intercettazioni hanno fatto poi il resto un quarto accusato andrà al processo ordinario il giudice non ha accettato il patteggiamento sempre su questa vicenda anche il Corriere Adriatico cocaina per il giro di spaccio arrivano le condanne pesanti il GUP combina tre imputati pene fino a cinque anni tre anni al tecnico di palcoscenico la difesa che farà appello nega che la droga sia stata trovata al teatro della fortuna poi la pagina del Corriere di Fano ancora dà spazio a questa figura quella di Fabio Guccioni ex assessore ai servizi sociali del Comune di Fano quando al sindaco era Stefano Aguzzi presidente di Fano Solidale lo ricordano ancora altri esponenti politici non solo amici come Del Vecchio che segnala la sua eredità e come Stefano Aguzzi appunto che dice e dice anzi di Fabio Guccioni riusciva a sdrammatizzare anche le situazioni più problematiche mi invitava sempre a riflettere sulle cose con calma e serenità diceva che ero irruento riferendosi ad Aguzzi e dovevo imparare a farmi scivolare addosso i problemi senza prendermela troppo e poi chiude dicendo addio amico mio oggi alle 16 lo ricordiamo nella chiesa di Sant'Orso a Fano ci sarà appunto il suo funerale da Ancone invece il Corriere Adriatico mai dato antibiotici al nostro Francesco per il medico sarebbe diventato sordo parliamo del processo all'omeopata pesarese Mecozzi il padre del bimbo che ha testimoniato ieri in udienza Marco Bonifazi il papà del piccolo Francesco questo bambino di Cagli è morto al Salesi il 27 maggio 2017 per le conseguenze di un'ottite bilaterale curata con rimedi omeopatici aveva solo 7 anni ha rilasciato questa sua testimonianza dicendo che non ci siamo rivolti ai medici perché avevamo ormai fiducia in Mecozzi cosa diceva su antibiotici e antipiretici che se Francesco li avesse assunti sarebbe potuto incorrere nella sordità o nel coma epatico e dunque arrivare alla morte e sono alcuni stralci di questa di questa vicenda atti osceni davanti a una bimba di 4 anni sempre da Pesaro Corriere Adriatico esibizione sotto la doccia in spiaggia si è aperto il processo per un 28enne accusato di corruzione di minorenne rischia fino a 5 anni è successo durante l'estate in piena estate davanti a una bambina di 4 anni alla madre c'era un marocchino di 28 anni intento a masturbarsi il fatto è accaduto in uno stabilimento balneare nella zona della spiaggia di Levante a Pesaro secondo la querela sporta dalla madre l'uomo era sotto la doccia poi si sarebbe avvicinata appunto la signora con la figlia il giovane con il costume calato si stava toccando insomma allora questa donna questa mamma ha portato via la figlia si è diretta spaventata dal bagnino e poi da lì è partita la denuncia tra l'altro c'è un precedente di qualche giorno fa l'unidì i carabinieri hanno denunciato invece un 54enne algerino per atti osceni in luogo pubblico al parco Miralfiore di Velta la telecamera di Marche Multiservizi distrutta per liberarsi illegalmente dai rifiuti la società ha presentato denunce siccome come deterrente ci sono molte telecamere vicino ai centri di raccolta quindi agli spazi per la raccolta differenziata qualcuno ha pensato bene di eliminare la telecamera per tornare a buttare in maniera indiscriminata insomma la spazzatura la pagina di Fano si occupa invece di Franco Battiato la morte di Franco Battiato che in qualche modo ha colpito anche le Marche come abbiamo visto nei titoli ma anche Fano in particolare perché Battiato collaborò al violino e la selce tra il 1996 e il 1999 l'artista siciliano lanciò la città nell'imperio culturale italiano così Battiato ci proiettò nella modernità a titolo del giornale di oggi parla l'ex sindaco Carnaroli con Martino Branca all'epoca Martino Branca era l'assessore alla cultura diede una scossa di cui aveva bisogno con investimenti mai visti prima parcheggi blu sempre da Fano la manovrina correttiva via libera dal 14 giugno invece che dal primo al nuovo piano della sosta agevolazioni solo per residenti operatori della pesca chi abita in zona potrà fare un abbonamento stagionale di 30 euro ma soltanto per un'auto cade dalla bici ciclista portato in codice rosso a Fano stava facendo un giro con un amico tra Carignano e Fenile altro sinistro tra un'auto e un furgone sull'Adriatica un set in piazza 20 Settembre tanti fanesi hanno fatto le comparse iniziate le riprese del film criminale si diventa una produzione tutta made in marche la pagina di Fano invece del Corriere Fano bella e sconosciuta poche tracce nei siti web i portali turistici non indicano la città tra le principali mete della provincia dopo le spese per il consulente e i punti IAT 40 mila euro per gestire la rete e i social intanto di Fano c'è questa bella immagine dell'eremo di Monte Giove mentre clienti al tavolo del buffet multe chiusura per 5 giorni la sanzione colpisce anche il Bardan nella piazza centrale la Gianmarioli dice dobbiamo legare le persone alle sedie insomma Maria Flora poi racconta come sono andate le cose e il perché si è arrivati a questa multa ciclovia comitato insiste con Ancona ripensateci il tracciato senza senso appello alla regione per ripristinare il percorso accanto alla ferrovia Fano Urbino ciclista urta la ruota dell'amico rovinosa caduta cinquantenne pesarese riporta fratture tra Carignano e Fenile schianto poi invece tra due veicoli con un ferito a Ponte Sasso nel punto di un recente grave scontro mentre da Fermignano Carlino raccolta fondi per quattro famiglie evacuate da casa sono i residenti di una palazzina di via Anna Franca coinvolti in un incendio i danni sono stati ingenti ora sono in affitto in attesa dei lavori croce rossa ed ente pubblico si sono dati da fare per dare aiuto ad almeno una decina di persone mentre Savelli cinque ore di intervento due dita amputate per la caduta dunque si sono rivelate più serie di quel che erano apparse a prima vista le condizioni di Renzo Savelli 75 anni che lunedì mattina è caduto a terra per il cedimento di un terrazzino interno mentre con il geometra Paolo Picchi stava visitando la corte di Palazzo Bramasangue in pieno centro di Fossombroni i due sono precipitati da un'altezza di 6 metri quando il terrazzo su cui si trovavano acceduto all'improvviso accartocciandosi su un analogo terrazzo sottostante e facendo precipitare i due fino al seminterrato dell'antico stabile quattrocentesco insomma l'altro è finito al torrette di Ancona ecco vediamo un po' cosa dice dunque quanto al geometra Picchi che come detto accompagnava Savelli in una visita al palazzo si trova anche lui a torrette in osservazione ma le sue condizioni appaiono decisamente meno impegnativo per lui solo dei punti alla testa ma niente di grave quindi all'inizio sembrava più grave il geometra Picchi poi invece alla fine insomma ha dovuto amputare due dita a Savelli quindi insomma comunque auguri ovviamente a tutti Urbino mala sanità la sentenza 26 anni dopo alla famiglia oltre un milione di euro la Cassazione conferma il risarcimento dichiarato non grave morì dopo sette ore di lucida agonia a soli 38 anni dunque la Corte di Cassazione ha emesso con questa sentenza del 5 maggio scorso il punto finale a lunga vicenda di un giovane 38enne deceduto nel 1996 per un caso di mala sanità ad Urbino dopo un incidente stradale in cui aveva riportato alcune fratture e un trauma cranico addominale dunque ben 25 anni per arrivare a questa a questa sentenza andiamo invece adesso sulla pagina della Valle del Metauro anche qui abbiamo sulla pagina di Fossombrone l'intervento neurochirurgico per Renzo Savelli stabilizzate le vertebre è caduto col geometra picchi da un solaio da un solaio praticamente che è crollato come abbiamo detto da Senigallia invece schianto fatale muore un centauro Marco Cesaroni 56 anni è deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla sua moto sulla strada arceviese è successo ieri dopo le 19.45 nello scontro con una BMW all'altezza dell'intersezione con via del lavoro mentre droga e armi in auto denunciati in tre sempre da Senigallia i carabinieri hanno contestato la detenzione fine di spaccio e porto abusivo d'armi uno aveva anche dei precedenti siamo allo sport per dire soltanto che possiamo farcela ma sarà durissima i tifosi del Fano verso la doppia sfida salvezza con Limolese tra speranze e timori regnerà una grande paura di perdere peccato che gli stadi saranno ancora chiusi intanto i tamponi i positivi nell'alma restano tre dove oramai da una settimana si procede al ritmo di un giro di tamponi al giorno per verificare l'evolvere della situazione dopo l'isolamento di Matteo Brero che vedete nella foto Luca Bruno e Luca Sciglia il Club Granata ha fatto però sapere che da oggi riprenderà alla lettera il protocollo Covid che prevede invece controlli ogni 48 ore e non ogni giorno siamo in chiusura vi ricordo alle 9 di questa mattina in diretta l'udienza di Papa Francesco alle 15 il rosario dalla cappellina della Divina Misericordia di Fano TV alle 18 il rosario invece in diretta dalla Turchia e poi alle 21 uno speciale sull'inaugurazione della nuova linea di lavoro di una nota ditta locale di Mondavio è tutto grazie per averci seguito a tutti gli auguri di una buona giornata arrivederci grazie a tutti